Buonasera, benvenuti ad una nuova edizione di Spazio Professioni. Vediamo insieme le notizie di questa settimana. L'Italia evita una bocciatura sulla richiesta di rinvio del pareggio di bilancio e quindi guadagna tempo, ma deve fare i conti con un nuovo richiamo della Commissione Europea sul debito elevato e con la richiesta di misure aggiuntive per farlo scendere già nel 2014. Ma il Tesoro rassicura le stime sul debito non tengono conto di risparmi già pianificati, quindi non c'è bisogno di manovre correttive perché con gli interventi programmati gli obiettivi saranno raggiunti. Nel resto Bruxelles non fisso scadenze, ne chiede manovre vere e proprie, ma vuole solo che l'Italia intervenga al più presto con privatizzazioni, spending review e riforme procrescita, in modo da essere pronta quando l'anno prossimo scatterà la regola del debito che impone il taglio forzoso di un ventesimo all'anno dell'eccedenza. Per rispettare i requisiti del patto di stabilità l'Italia ha bisogno di fare sforzi aggiuntivi anche nel 2014. Sono le raccomandazioni della Commissione Europea all'Italia che però all'ultimo minuto ha evitato la bocciatura della richiesta di far slittare di un anno il pareggio di bilancio. La frase è stata infatti cancellata dal testo delle raccomandazioni su iniziativa del commissario italiano Antonio Tagliani. L'Unione Europea chiede all'Italia misure per rispettare la regola del debito sia quest'anno sia al prossimo. Tutto il test approvato dalla Commissione va nella direzione di una forte azione per la crescita. Certo bisogna essere ancora più coraggiosi, è l'inizio di un percorso nuovo, io credo però che si possa e si debba fare ancora di più. Tra le linee guida indicate da Bruxelles al governo c'è garantire una migliore gestione dei fondi europei, finanziare il taglio del cuneo fiscale anche nel 2015, spostando il carico dalla produzione ai consumi e agli immobili. La Commissione chiede anche di aumentare l'intensità delle riforme per sostenere la crescita e l'occupazione. Pur riconoscendo che il Paese è già impegnato in un programma di riforme considerevole, non mancano sottolineature critiche. Lo scenario macroeconomico su cui si fonda il programma di riforme dell'Italia è leggermente ottimistico, si legge nel documento, che parla anche di misure non sufficientemente dettagliate per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. Secondo il Ministro dell'Economia Paduan, tuttavia, la Commissione europea apprezza le riforme italiane. Sapevamo del debito alto, scrive il Ministro su Twitter, acceleriamo le riforme e le privatizzazioni per ridurlo in modo sostenibile. Il Premier Matteo Renzi promette nuove riforme nei prossimi mesi, a partire dall'approvazione in tempi brevi del provvedimento Sblocca Italia. Sentiamo i dettagli nel servizio dell'Ansa. Matteo Renzi annuncia lo Sblocca Italia entro luglio, un provvedimento che consentirà di sbloccare interventi fermi da 40 anni e aggiunge, queste politiche economiche hanno portato ad una disoccupazione senza precedenti, ora si riparte con una nuova politica europea, con investimenti industriali e nuove regole sul lavoro o non se ne esce. Poi il Premier ricorda che la discussione sulla riforma del Senato riprenderà la prossima settimana e attacca l'annunciato sciopero della RAI contro i tagli milionari chiesti dall'esecutivo. Poi citando la questione Fiat, Renzi si dice pronto ad accettare la sfida ma ricorda il tema occupazionale e chiede di visitare la sede di Detroit. Dal Festival dell'Economia di Trento il Premier parla ad una platea di addetti ai lavori, rivolgendosi alla D di Fiat Marchionne in calza. Accetto le sfide ma è evidente che a termini merese come all'Ilva o nel Sulcis c'è un tema occupazionale. Pronta la risposta del super manager, Renzi ha detto quello che volevo sentire, lo aspetto molto volentieri a Detroit. In dieci anni è cambiato il mondo intero ma alla crisi di questi anni, secondo Marchionne, abbiamo reagito malissimo e siamo rimasti ingessati. Dopo le elezioni europee il governo torna alla carica con le riforme. Ma come si collocano i professionisti all'interno dell'agenda politica del nostro Paese? Sentiamo le dichiarazioni di Gaetano Stella, presidente di Comprofessioni. Diciamo che il risultato politico che è uscito da queste elezioni è un risultato che ha testimoniato la volontà da parte del Paese di volere un cambiamento che in questo momento Renzi sta interpretando al meglio. E quindi ha un risultato che ho ottenuto con una votazione sul campo molto importante e quindi a questo governo ora è pienamente ritengo legittimato a procedere con le riforme che sono cominciate in modo importante ma sempre però sotto l'aspetto che il governo non era stato diciamo votato dal popolo e che quindi poteva anche essere un po' subiudice. Adesso le riforme bisogna che vengono portate avanti nel più breve tempo possibile per rilanciare il Paese. Ci sono molte riforme sul piatto, alcune riguardano anche i professionisti, alcune riforme sul mercato del lavoro sono state fatte ma possono essere un momentino più incisive. Quelle sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato con qualche problema che non è stato del tutto superato come quello della formazione che aspetta le regioni e con i problemi che sicuramente non sono stati del tutto superati per queste difficoltà soprattutto nelle regioni che appunto procedono con aspetti formativi che non sono uniformi su tutto il territorio nazionale e quindi difficoltà anche di capire esattamente la portata di questo provvedimento ma lo vedremo in seguito. Riforma del fisco perché effettivamente abbiamo un fisco che è troppo pesante, si legge che gran parte dei bilanci delle aziende hanno chiuso in perdita a causa appunto della situazione fiscale troppo pesante, questo deve essere posto un rimedio perché altrimenti le imprese non possono essere soffocate dal fisco. E poi i provvedimenti che riguardano anche i professionisti, c'era sul tappeto questo progetto della sussidiarietà dove i professionisti possono intervenire a favore dello Stato con accollandosi alcune diciamo compiti quando la pubblica amministrazione, quando alcuni rami delle istituzioni pubbliche non sono in grado di assolvere rapidamente i loro compiti. E poi ci sono moltissimi altri argomenti, sicuramente la semplificazione e anche la possibilità adesso che a livello europeo c'è stato questo importante il risultato raggiunto, che la politica dei fondi comunitari che possa essere effettivamente utilizzata anche dai professionisti attraverso una sensibilizzazione del potere centrale del governo diciamo presso le regioni che devono effettuare i bandi. Riparte la detassazione negli studi professionali. Anche nel 2014 i professionisti titolari di studi potranno applicare l'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione legata ad incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa. Con professioni la Confederazione Italiana Libere Professioni e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'accordo quadro nazionale che prevede l'applicazione della tassazione agevolata su diverse voci della busta paga dei dipendenti degli studi professionali. Lavoro professionale, clausole elastiche e flessibili, straordinari, lavoro notturno, festivo e dominicale e altre prestazioni legate all'aumento della produttività negli studi. Ma sentiamo il commento di Gaetano Stella. Allora oggi il 28 maggio abbiamo avuto come comprofessione un incontro con le organizzazioni sindacali di CGL, Filcams, Fisasset, CISL e Wiltux Will per riprendere la trattativa del contratto collettivo nazionale dipendente di studi professionali che è un contratto che è scaduto. è stata anche l'occasione oggi per incontrarsi e discutere di altri due argomenti estremamente importanti. Uno, abbiamo affrontato il tema della detassazione per l'anno 2014 che è stata riconfermata dal governo e quindi le parti sociali che ho appena citato ci siamo ritrovati per fare per condividere questo accordo territoriale in modo tale che ci possa essere la detassazione delle componenti accessorie sulla retribuzione. Come dire che praticamente questo limite fino ai 3.000 euro l'anno possono scontrare un'elicota sostitutiva del 10% e quindi significa che possono essere corrisposte su queste indennità accessorie della retribuzione un maggiore compenso legato anche alla produttività che va riconosciuto quindi ai lavoratori degli studi professionali quindi un maggior ricavo, cioè una maggiore entrata per i lavoratori e ha un costo che è più basso per i datori di lavoro rispetto a una normale costo della retribuzione. Fumata nera invece sull'elemento economico di garanzia per i dipendenti degli studi professionali. Durante i negoziati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali con professioni e le organizzazioni sindacali del settore non hanno raggiunto un accordo sulla corresponsione dell'elemento economico di garanzia. Con professioni sottolinea quindi che l'erogazione dell'elemento economico di garanzia deve ritenersi sospesa in attesa di chiarimenti volti ad identificare meglio la natura, le modalità operative di attuazione e le finalità dell'istituto. Parliamo adesso di lavoro. Sono circa 9 milioni e 300 mila le persone in difficoltà per la carenza di lavoro o per la precarietà della loro posizione lavorativa. Pari al 56,8% in più rispetto all'anno pre-crisi 2007. E quanto emerge dal periodico monitoraggio svolto dall'associazione Bruno Trentin della CGL sugli effetti della crisi in Italia che indica come l'area del disagio e della sofferenza occupazionale abbiano raggiunto nell'ultimo trimestre 2013 il punto più alto dall'inizio delle rilevazioni. Starti, calzolai, corniciai ma anche estetiste, calzolai e profumieri. Sono alcune delle categorie che secondo i dati del MEF sugli studi di settore hanno dichiarato nel 2012 meno di 10 mila euro. Sotto la soglia dell'incapienza 8 mila euro figurano anche commercianti di scarpe e abbigliamento e giocattolai. È il ritratto dell'Italia che si evince dagli studi di settore del 2012 del MEF. Il reddito medio dichiarato nel 2012 è risultato pari a 25 mila 700 euro per le persone e 23 mila 600 per le società di capitale ed enti. Ponendo l'attenzione sull'attività esercitata il reddito medio più elevato, analogamente all'anno scorso, si è registrato nel settore delle attività professionali, seguito dal settore delle attività manifatturiere e dal settore dei servizi, mentre il reddito medio più basso si è rilevato nei commerci. Dottori.it, il portale che aiuta a trovare uno specialista in rete e a prenotare una visita, ha svolto un'indagine su un campione di 3 mila specialisti presenti in rete, scoprendo che il 79% delle ricerche di medici avviene perché si ha bisogno di un medico e si sfrutta il web per trovare il nome più adatto a cui rivolgersi. Secondo Dottori.it il web può quindi divenire uno strumento valido per aumentare le opportunità lavorative dei medici italiani, ma anche per migliorarne l'immagine e la reputazione. Dottori.it ha completato un'analisi, una ricerca sulla base di quelle che sono state le performance e i risultati dei primi sei mesi di vita. Abbiamo analizzato che circa il 60%, il 57% per la precisione degli utenti internet che si mettono alla ricerca di un medico e quindi si mettono in contatto con un medico sono donne e nel 60% dei casi comunque gli italiani cercano un medico del proprio sesso. Un dato molto interessante perché probabilmente la donna oltre a farsi carico delle proprie esigenze personali, probabilmente ricerca su internet anche informazioni per la salute dei propri figli o di altre persone di cui si fa carico. Per il medico è sempre più importante essere a bordo di piattaforme come dottori.it proprio perché consentono da un lato di avvicinarsi all'assistito o al potenziale tale e quindi di mettersi in contatto in maniera più rapida e più efficiente con un potenziale paziente. Dall'altro una piattaforma del genere garantisce una corretta presentazione, quindi uno strumento che gli dia credibilità e reputazione proprio essendo un professionista che lavora con la propria storia e con la propria esperienza è giusto che abbia uno spazio dove potersi presentare in maniera corretta agli utenti che cercano informazioni su di lui. E ancora una notizia dal mondo dei medici. Oggi in tutta Italia Flash Mob per attirare l'attenzione sulla necessità di un maggior numero di borse di specializzazione e sul precariato che ormai caratterizza il mondo della sanità. Vediamo il servizio. Non a tutti in futuro potrebbero essere garantite le cure del sistema sanitario nazionale in quanto i giovani medici che in Italia trovano le porte di accesso sbarrate potrebbero finire per una gran parte all'estero. È questo il messaggio mandato oggi con un Flash Mob in tutta Italia dai giovani medici per attirare l'attenzione sulla necessità di un maggior numero di borse di specializzazione e sul precariato che ormai caratterizza il mondo della sanità. Valigie pronte da un lato e pazienti da curare che rimangono invece esanimi a terra senza soccorso sono le scene rappresentate attraverso il Flash Mob che a Roma è stato organizzato in piazza a Montecitorio dal Sigm l'associazione italiana dei giovani medici. Un centinaio di camici bianchi in piazza in rappresentanza dei loro colleghi al grido di riprendiamoci la sanità hanno dato il via alla protesta che ha interessato le piazze più importanti del paese. Vogliamo svecchiare il sistema sanitario nazionale, chiediamo più accesso alla formazione post laurea e la valorizzazione delle risorse umane della sanità, spiega Andrea Silenzi, vicepresidente Sigm. Nei giovani troviamo sbarrate le porte del servizio sanitario ma la sanità sta invecchiando e in futuro non ci saranno professionisti quantitativamente in grado di assistere tutti coloro che ne hanno bisogno. Le risorse fresche della sanità non accederanno insomma agli ospedali. Bene, per questa edizione è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Grazie.